La posizione della Regione è molto chiara ed è stata espressa sia oggi che nelle sedi istituzionali, quindi in giunta in Consiglio, è quella di appoggiare quello che i territori richiedono. Quindi se i comuni con atti, con un qualunque atto, dichiarano che non vogliono le barriere, la Regione sarà al loro fianco, com'è al loro fianco oggi a Roma. Non siamo contrari alla velocizzazione del tracciato, non siamo contrari ovviamente all'abbattimento dei rumori, ma un progetto non ragionato con i comuni e con il territorio non può essere che vedere i comuni con un parere negativo.